Buongiorno, io sono Michele Surleo, arrivo dal sud dell'Italia. Volevo dire e parlare bene di questo studio dentistico, al contrario di qualcuno che è pessimista e diffidente. È tutto reale quello che loro pubblicizzano. Innanzitutto tengo a precisare che qualità, cortesia e serietà sono la loro fondamentale punto di forza. Qui ti accolgono veramente molto bene, disponibilità estrema, appartamento molto confortevole, dotato di caldaia autonoma di riscaldamento, aria condizionata, divani in pelle come potete vedere, letto matrimoniale, cucina completa, quindi non c'è bisogno di nulla. L'unica cosa è comprare qualcosa a mangiare, eccetera. Grazie infinite, se questo può esservi di aiuto o comunque contattatemi anche con email sul mio sito. Arrivederci.